La lettera! A voi che piante la guerra, a voi che avete armato il paese più povero, a voi che dotate a scacchi con le sorti dell'umanità. A voi che fate gara, a chi costruisce le armi più potenti, per alimentare la vostra grande sete di potere. A voi integrati nel sistema, che siete necessari al suo mantenimento, a voi che decidete di combattere e poi viate a fronte, giovani armati! No! Fatta sempre della stessa merda! Mi aveva detto tornerò, ma era una piccola pedina, di quella orribile macchinazione e spedizione dei tuoi anni. No! 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 Si sono i mi ma ti da come i ritori, misuri io di abbiamo sentito io. Ora devo conferirli usare Gesù qui guardate sul dann Smitty perché io vedere il viaggio di sono i Leid Hippostim son io che mi piace un humano per uno! Ho preso ancora di dolore, comprate con me 나�o che potete di salvare? Un papiro randodante! Grazie a tutti.